Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Concetta Serrano, madre di Sara Scazzi, ha recentemente rilasciato dichiarazioni alla stampa riguardo il tragico caso di sua figlia, esprimendo un dolore immenso e irrecuperabile. Le sue parole, cariche di emozione, evidenziano la convinzione dell'innocenza di Michele Misseri nel coinvolgimento materiale nel crimine, sottolineando il danno causato dalle sue affermazioni. Le parole di Michele mi colpiscono profondamente. Mia figlia ha ricevuto giustizia in aula, ma il suo comportamento sembra negarle una completa giustizia, ha detto Concetta durante un'intervista a quarto grado. Criticando aspramente Misseri per le sue continue dichiarazioni inaccettabili, aggiunge che desidererebbe confrontarsi direttamente con lui per conoscere la verità sui fatti di quel giorno estivo. Ha anche menzionato di aver visto video che attesterebbero l'innocenza di Misseri, in uno dei quali lui afferma di aver coperto Sabrina. Concetta ha inoltre ricordato il momento in cui cercò Sara nella casa dei Misseri, dove Sabrina diede risposte elusive, senza immaginare mai che potessero essere loro le responsabili della morte di sua figlia. Queste rivelazioni sottolineano la ricerca continua di verità e giustizia da parte della madre di Sara. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.